Raffaele Corsale, direttore sportivo dell'FC Matese, una giornata sicuramente storica per tutta la comunità. Si ospita una società come la Samb, era un appuntamento importante al quale farsi trovare pronti. Anche in campo avete risposto alla grande, è una partita molto combattuta, ma un buon approccio. Avete chiuso il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa la Samb ha dimezzato lo svantaggio, ma siete riusciti poi a chiuderla? Sì, assolutamente d'accordo. Oggi per noi è una giornata importante, penso a Piedimonte Matese, un evento che speriamo che succeda nel corso dei prossimi anni. Però oggi abbiamo giocato contro una compagine che ha una storia importante, quindi siamo contenti della prestazione dei ragazzi, siamo contenti del risultato. Siamo contenti anche per questa giornata di sport che c'è stata a Piedimonte Matese. Settimana di avvicinamento alla sfida, cosa vi siete detti maggiormente? È normale che i ragazzi erano i primi ad essere consapevoli della brutta prestazione a Tolentino. Abbiamo toccato le corde giuste, siamo contenti che hanno fatto una prova da carattere, quindi oggi ci godiamo questa vittoria. Nel finale abbiamo visto sugli spalti un po' le anime tesi, cosa è accaduto realmente? In realtà loro giustamente per il blasone che c'hanno non possono e vogliono da questa squadra qualcosa in più. I tifosi hanno ragione, l'hanno manifestato un po' male, però nel complesso non erano contenti della prestazione della loro squadra. Noi invece ci godiamo questa squadra, ci godiamo questo risultato importante e storico e già siamo proiettati a mercoledì col notaresco. Grazie. Grazie. Grazie.